Romics a Roma ha appena chiuso i battenti ed è sempre più evidente che le fiere del fumetto preferiscono dirigersi ancora di più verso cosplay, film e videogames, riducendo lo spazio per i comics veri e propri. Ma proprio in questi tempi di conflitto i fumetti potrebbero essere un modo diverso e più incisivo per riflettere di guerra e di pace, come accade ad esempio in saga di nome e di fatto, pubblicata da Bao e presente nella mostra capitolina. In particolare una delle opere più interessanti degli ultimissimi anni è Saga che in Italia è pubblicato da Bao Publishing in dieci volumi che è ambientato in un universo a metà tra il fantasy e la fantascienza in cui un padre e una madre sono due soldati di eserciti contrapposti che cercano di sopravvivere e far sopravvivere la loro bambina e la loro famiglia e come sempre la fantasy e la fantascienza usano un genere per raccontare del mondo di oggi. Al di là della bellezza eccezionale dei disegni, Saga ha un testo incredibile di Brian K. Wogan che cerca di dimostrare come i conflitti bellici distruggano ogni speranza, che la convivenza tra le razze è possibile. Certe volte è più facile farsi la guerra che coltivare la pace, ma la pace ci guida verso una vita migliore.